Il FOIA, l'acronimo di Freedom of Information Act, la legge per la libertà di informazione e regola l'accesso all'informazione in almeno 100 paesi oggi. È quella legge che dice che chiunque può accedere ai documenti che sono contenuti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza dover spiegare perché, senza dettagliare un interesse. Al momento sono oltre 80 i paesi nel mondo che hanno un Freedom of Information Act, delle norme come il Freedom of Information Act. L'Italia è invece uno dei pochi paesi che ancora non lo ha. Questo è un grandissimo limite sia da un punto di vista democratico ma è anche una simmetria, diventa anche una simmetria a livello economico nel mercato del lavoro, nel mercato delle imprese. Numerose associazioni della società civile ed esperti, parliamo di oltre 30 realtà, a partire dal luglio 2014 hanno avviato un processo di scrittura collettivo di un testo italiano del Freedom of Information Act, il cosiddetto FOIA for Italy. Nell'epoca del digitale le richieste chiaramente non hanno più quello stesso peso di processo. Noi siamo ancora legati a un'eredità di una legge pensata per il cartaceo. I punti sono il diritto di accesso da parte di chiunque, l'accesso non deve avere restrizioni, cioè le persone non devono dire perché vogliono vedere un determinato documento. L'accesso deve essere consentito da tutte le amministrazioni ma anche dalle società partecipate. Nel caso in cui l'amministrazione non conceda l'accesso ci devono essere dei giudizi rapidi e assolutamente non costosi. Un atto che per esempio non siamo mai riusciti a ottenere è l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Questa è un'inchiesta che lanciamo ormai due anni e mezzo fa con Wired. Quello che cercavamo erano le ispezioni per la resistenza sismica degli edifici scolastici. Stiamo parlando di qualcosa come 40.000 edifici scolastici di cui 22.000 in zone a alto medio rischio sismico. Sono pubblici fino adesso circa 2.000 diciamo di queste ispezioni sugli edifici. Quindi sappiamo che ci sono milioni di ragazzini e centinaia di migliaia di insegnanti che vanno a lavorare, che vanno a scuola ogni giorno in edifici di cui non conosciamo la sicurezza. È ovvio che nel 2015 la trasparenza si può fare in modo sostenibile per le amministrazioni, cioè ad un costo ridotto soltanto se usa davvero il digitale. Una trasparenza basata sul cartaceo non sarebbe sicuramente né efficace né conveniente né per i cittadini né per le amministrazioni.